80 anni fa sui territori del Terzo Reich, la Notte dei Cristalli, che dede poi inizio alla Shoah. Il corrispondente da Berlino, Rino Pelino, ci racconta le commemorazioni che ci sono state oggi nella capitale tedesca. Con Giovanni Battista Tommasini ripercorriamo invece quella terribile notte di devastazione contro le comunità ebraiche. Avevo dieci anni e mio padre era stato già portato a Buchenwald. Mia madre mi disse di andare a vedere cosa stesse succedendo. Giù in strada vedi persone che distruggevano negozi. A terra un tappeto di vetri. Mi era stato insegnato in questi casi a rivolgermi alla polizia, chiesi aiuto, ma i poliziotti si misero a ridere. Margit Siebner ha 94 anni ma sembra ancora sotto shock. Racconta come nei giorni seguenti vennero a scuola, unica nella sua classe, le misurarono il capo e le orecchie per valutare se fosse ebrea o meticcia. Crimini di inaudita ferocia, ha detto Angela Merkel, che ancora oggi lasciano senza parole. Siamo chiamati a preservare la memoria e a vigilare contro la ripresa di xenofobia e antisemitismo. Il presidente delle comunità ebraiche tedesche, Schuster, ha parlato di forze politiche incendiarie che siedono in Parlamento e fomentano l'odio religioso e razziale. Un chiaro riferimento ai populisti di Alternative für Deutschland, non invitata alle commemorazioni perché più volte esponenti di punta del partito hanno sminuito e banalizzato la portata del nazismo e della Shoah. Dopo il 1945, dice ancora Margit Siebner, tutti a dire mai più e invece guardate cosa succede di nuovo, non solo in Germania ma in Francia, in Olanda, in Europa. Ai giovani dico vigilate fin dall'inizio, allora non vennero presi sul serio e guardate cosa è successo. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre di 80 anni fa il regime nazionale